Siamo al convegno telemarketing rivoluzione in corso, oggi viene presentato un codice procedurale materiali telemarketing. Siamo insieme a Roberto Malaman, direttore advocacy consumatori e utenti Arera. Sicuramente un'iniziativa importante è un buon segnale, Assocontact, associazione call center, OIC, 11 associazioni consumatori insieme per darsi delle regole. Certo, i call center sono uno strumento fondamentale ormai per la vita serena delle persone. Dividiamoli in due tipi, quelli che fanno assistenza, che devono funzionare bene, e quelli che fanno vendita. In questo campo ci sono ancora troppi comportamenti anomali, i regolatori, l'autorità per l'energia, l'antitrust, l'autorità per le comunicazioni. Fanno la loro parte nel fare regole e controlli, ma benvengano i protocolli di buon comportamento, che danno segnali al settore, positivi, che orientano i comportamenti sul campo nei confronti delle persone. Gli italiani hanno il diritto di ricevere delle offerte commerciali interessanti, ma hanno anche il diritto di non essere disturbati, di non essere imbrogliati, che non gli siano raccontate frottole. Quindi benvengano questi protocolli. Da parte di OIC e di Assoconta c'è anche la richiesta di coinvolgere anche voi delle autorità per avere un parere, per avere suggerimenti per quanto riguarda il codice. Quindi un'apertura a tutto tondo per trovare soluzioni condivise. Certo, noi siamo a disposizione. Diciamo, istituzionalmente noi facciamo regole che tutti devono rispettare, i protocolli sono volontari e li rispettano coloro che positivamente li sottoscrivono. Sommando i due interventi si spera che gli italiani abbiano di fronte dei servizi sempre migliori.